2, 1, ed è partita la tredicesima edizione del romano del sette giornale, tre iniziati e la visione finale, grazie per il tuo visito lavoro, la propria amicenza del mio amico di Dioversi, ma il progetto da noi. Oggi ha cercato, è arrivata tardi, ma ha potuto indossare il suo consueto amminente, dunque non la vedremo protagonista. E conclude, davvero alla grande, che non è assolutamente il servizio di Giovanni, ma è buato il giudice, non è assolutamente il nostro lavoro, ma è assolutamente il nostro lavoro, non è assolutamente il nostro lavoro, non è assolutamente il nostro lavoro, Prima erano tutti orti. Grazie.